Oro Sant'Ambrogio, uno dei grandi protagonisti della seconda tappa del Giro del Trentino, 4 secondi da Siuzzo. Quanto mancava per raggiungerlo? Quanto doveva essere più su quel traguardo? No, niente, ormai la tappa è andata con i secondi, ma si fa ben poco. Certo, se gli ultimi 500 metri fossero stati ancora in salita avrei avuto qualche possibilità, però d'altronde erano così e niente, si può dire che avrei potuto usare di più magari partire qualche metro prima oppure un posto che scende la saliva, però ormai è andata e pensiamo oggi e domani. Quali sono i piani per queste due tappe? Il distacco da Wiggins è di 18 secondi, poco più di 4 minuti invece dal leader della classifica. Si può ancora rimontare, si può vincere questo Giro del Trentino ed era in programma di vincerlo, di provare a vincerlo? Diciamo che sicuramente oggi e domani saranno due tappe dove bisognerà sempre stare attenti. Certo, il distacco dal primo è importante perché c'è stata questa prima tappa che è stata un po' interpretata, un po' così. Avere solo pochi secondi da Nibali e Wiggins sicuramente mi fa onore, però come ho detto io voglio vivere la giornata e sicuramente voglio cercare di vincere una tappa. Poi la classifica verrà di conseguenza. Poi ci sarà il Giro d'Italia e il tuo direttore sportivo dice che Sant'Ambrogio spesso è poco considerato, troppo poco considerato. Al Giro d'Italia si punterà a dimostrare che questa considerazione bisognerebbe averne di più per Sant'Ambrogio? Forse sinceramente ha un po' ragione perché da quando quest'anno è iniziata la stagione tutte le tappe o le corse adatte a me non sono mai uscite dai cinque. Però d'altronde forse ci vuole la vittoria per essere considerato e anche giusto così. Al Giro d'Italia manca ancora più di due settimane e ci penseremo a un momento opportuno. Certo che là vincere una tappa sarebbe il massimo.